sicuramente non la partita che ci aspettavamo no volevamo tutta un'altra prestazione per dare continuità a quello che è stato un buonissimo juventus cagliari una partita giocata solo pochi giorni fa e che ci aveva forse anche illusi tra virgolette desideravamo sicuramente un altro approccio è stata una partita che è stata vinta sì però che fatica però quanto abbiamo dovuto lottare per arrivare a portare a casa questi tre punti che ci qualificano assolutamente agli ottavi la prossima fase di champions league quindi la juventus supera i gironi però però tanti 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 però prima di cominciare one football il link qui sotto in descrizione non perdetevelo assolutamente ci saranno tante cose da analizzare in questo post partita non solo sul mio canale youtube ma anche sull'app che potrete scaricare gratuitamente dal link che trovate qui sotto fatelo immediatamente mentre lasciate un mi piace a questo video allora ragazzi che dire sicuramente una formazione iniziale che non ha esaltato tantissimo ci sono stati alcuni giocatori che non hanno reso come dovevano sicuramente bentancur è stato uno dei peggiori del primo tempo io credo forse il peggiore in assoluto del primo tempo un gol che abbiamo subito a freddo con dei brutti errori complessivi in fase difensiva con scesni che non fa sicuramente qualcosa per impedire il gol del ferrenvaro su una doccia fredda abbastanza brutta anche se devo dire la verità perché visto come era andata l'andata scusate la ripetizione non mi aspettavo di soffrire così tanto con il ferrenvaro soprattutto in casa la juve porta a casa si tre punti lo fa anche meritatamente se vogliamo perché comunque sia bernardeschi che morata avevano trovato il palo c'erano state delle occasioni e ripetizioni da parte della juve che a un certo punto aveva iniziato ad attaccare ma per l'ennesima volta per l'ennesima volta serve la sberla serve lo schiaffo per accendersi non so se un discorso di giocatori titolari non all'altezza delle riserve che in realtà sono titolari e quelli che erano titolari oggi sono riserve che quindi c'è stato questo turnover non so se perché mancava un difensore in più non credo secondo me è stato proprio sbagliato l'approccio è stato sottovalutato il ferrenvaro si è scesi in campo con sufficienza e soprattutto la cosa che mi dispiace di più è nel momento in cui dobbiamo andare a dimostrare che siamo vivi che possiamo ancora dire la nostra che dobbiamo far vedere che la partita col Cagliari non è stata una cosa a caso bisogna dare continuità a questo processo di crescita niente da fare niente da fare passo indietro passo indietro mi porto a casa assolutamente la vittoria però devo anche sottolineare una cosa so che tanti non saranno d'accordo con questa mia analisi in questo momento io lo so che sto passando per quello che fa i processi a dibala ma non è assolutamente così io amo paolo dibala adoro paolo dibala spero che rimanga paolo dibala voglio che paolo dibala sia il futuro di questa juve però ragazzi in questo momento quest'anno non so dirvi il gioco di pirlo prova a dirvele tutte quello che chiede pirlo agli attaccanti morata è troppo più forte morata è troppo più forte ma al di là del gol che ha fatto della gestione del pallone della gestione delle azioni dal garantire una salita alla squadra dal cambiare gioco dalla posizione che va a coprire in campo dall'area che va a riempire dalla fisicità che ci sa mettere dalla lotta e dalla corsa sicuramente più di qualità c'è appena entrato morata al posto di dibala ragazzi questa sera si è visto un cambio repentino nella viventus poi meno male che cristiano ronaldo si inventa dal niente il gol dell'1 a 1 perché sennò siamo in alto mare abbiamo fatto un gol perché ronaldo per fortuna è un fenomeno ha tirato fuori dal cilindro quel gol un bel gol un grandissimo gol e il secondo perché il portiere ancora una volta ti fa juve il portiere del ferring varus è una data ritorno io spero che possa entrare negli spogliatoi e dire ragazzi io sono viventino da sempre almeno regalatemi una maglia di ronaldo una di morato una di dibala così siamo pari perché vi ho veramente fatto vincere stasera e l'altra volta l'andata vi ho fatto vedere che mi piace la juve perché veramente il portiere del ferring varus è stasera mi dispiace per bernardeschi mi sarebbe piaciuto il gol di bernardeschi sono molto sincero perché il ragazzo ha bisogno di fiducia in se stesso e la fiducia arriva dalle prestazioni fatte bene e dai gol credo che non abbia fatto una bruttissima prestazione bernardeschi questa sera sicuramente con un gol del genere staremo parlando di tutta un'altra partita disputata dal ragazzo e morato è troppo forte quando entra non mi sono piaciuti tantissimo kuluzeschi chiesa quando sono entrati no e spero anche che bonucci possa riprendersi il prima possibile perché a danilo difensore centrale l'ho visto accusare un po tanto il colpo normale se vogliamo perché comunque non è il suo ruolo e un'altra cosa spero anche che anche alexandro possa iniziare a mettere tanti minuti nelle gambe perché lo abbiamo visto è palesemente indietro di condizione ma non poteva essere diversamente dato che è la sua prima vera gara stagionale io tra l'altro sto ascoltando la musica ma non c'è niente quindi posso benissimo togliermela niente insomma siamo riusciti a vincere siamo riusciti a passare il girone questa è una notizia molto positiva per il resto c'è ancora da lavorare tantissimo tantissimo e ci sono dei giocatori che in questo momento sono titolari una juventus che ha mosso il pallone in maniera lenta che ha avuto una squadra molto lunga c'è stata tantissima distanza tra i reparti ha sbagliato l'approccio alla partita si porta a casa il risultato ma sicuramente sulla prestazione ci sarà tanto da dire e mi dispiace mi dispiace perché la juve del legri le ultime juve del legri non ti hanno mai detto wow guardati la partita perché c'è una prestazione di livello ma Pirlo ci ha fatto vedere che questa squadra sa correre sa occupare bene gli spazi sa gestire la palla con il possesso con i tocchi ripetuti in velocità con i cambi di gioco questa sera non c'è stato niente questa sera non c'è stato nulla magari qualche giocatore tipo quadrato inizia anche essere stanco avrà bisogno di rifiatare forse sì 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 può essere però secondo me è stato completamente sbagliato l'approccio questa sera sono scesi in campo dicendo oh il Ferengvaros l'altra volta ci ha fatto vedere che squadra era e quindi stasera facciamo due facciamo tre facciamo quattro ed è qua l'errore è qua l'errore perché questa juve deve sempre essere umile contro qualsiasi avversario perché anche un Ferengvaros che è una delle squadre più vergognose che ho visto affrontare in champions league è riuscita a metterci in difficoltà semplicemente perché non siamo stati umili con noi stessi ci siamo sopravvalutati questa è una squadra che se non gioca con attenzione e con voglia e con grinta e con entusiasmo è una squadra forte come le altre se non meno quando invece ci mette tutte queste componenti si vedono delle cose ottime e da qua che dobbiamo ripartire dalla testa dal capire che quest'anno ogni partita va conquistata va sudata bisogna lottare su ogni cavolo di pallone è per questo che rabbia è titolare per questo che morata è titolare per questo che quadrada è titolare per questo che ci sono dei giocatori che in questo momento ha lo status titolare e altri giocatori che in questo momento ha lo status di riserva fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti tra ore che parlo non ho più voce vado a bere un bicchier d'acqua e vado a letto mi porto via solo la vittoria da questa sera tutto il resto